Basim Basim, stai bene? Basim Io non lo so. Tu avevi ragione, Nihal. La mia nemica, Kabiha, lei aveva le risposte. Che cosa hai scoperto? Che non so tutto di me stesso. Kabiha voleva dirmi la verità, ma la mia maestra l'ha messa a tacere. Quella verità è ad Alamut. Allora andremo ad Alamut. Andrò io, Nihal. Da solo. Hai bisogno di me. Devi stare al sicuro. Con te sono al sicuro. E tu lo sai con me. Potrei andare incontro a pericoli e morte. Questo è il mio fatto. Non mi sottrarrò a esso. E non è tuo dovere affrontarlo. Ovunque tu andrai, io ti seguirò. Se ti poserai, ti conforterò. Resterò al tuo fianco, passo dopo passo. Non sarai mai solo. Prepara le tue cose. Resteremo ad Alamut finché non avrai trovato le tue risposte. Siamo i temi. Siamo i temi. Sì. Nihal! Nihal! Roshan! Nihal! Nur! Non è il benvenuto che ti aspettavi, eh? Almeno eri altrove quando sono arrivati i Tairidi. Cos'è successo? Io... temo che Alamut sia caduta. Avevo l'ordine di cercare aiuto. Ho cercato delle pattuglie nel deserto. E ho trovato te. C'era qualcun altro con me? No. Eri solo. Allora Nihal è viva. E Roshan? Speravo che voi due foste insieme. Vieni, fratello. Dobbiamo uscire. Cercare altri sopravvissuti. E ripulire Alamut dalla feccia. Io... temo di non farcela. È grave. gliela farò pagare. La farò pagare a tutti. Noi non predichiamo la vendetta, Bassina. Cosa? Stai sanguinando a morte e resti ancora fedele a uno stupido dogma. Ma... Ma per cosa? Il credo non ha protetto Alamut. E anche io ho fallito. Anche io. Ma... tu puoi ancora vivere per i nostri ideali. E puoi salvare i nostri fratelli, che sono ancora vivi. Questo posso promettermi. Hai la mia parola. Che Allah ti protegga, Basim. Non c'è nient'altro da dire, fratello. Va! Salva gli altri! Calma. Sta calma. Va tutto bene. Il tuo padrone... ti ha affidata a me. Viola! Il Tempio. C'è qualcosa sotto il Tempio. Devo scoprire cosa. Costi quel che costi. Quanto sangue. Quanta morte. È questo che Kabiha intendeva con... spianare la strada. Nihal. Spero tu stia bene. Ovunque tu sia. Per Allah. Via. Qui non si passa... se non dall'alto. Vai da maleti... ma na na... na na... na na... no! 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 Alcuni dei nostri sono vivi. C'è anche il Mentore Raihanna. sì! No! 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 Grazie a tutti. 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 Manca poco. Niente e nessuno riuscirà a fermarmi. No, no, no. Sono troppo vicino. No, 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 no. Voi, no, 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 no. fermarmi. Ci sono altri. gli nemici. che vorranno. ma... Ora devo riuscire, dove questi intrusi hanno fallito. Che magia è questa? Un momento, io conosco questo simbolo. Ti avevo detto cosa sarebbe successo. Ultimo avvertimento. Molto bene. Siamo giunti a ucciderci a vicenda. E' questa la nostra idea di confraternità. Ultimo avvertimento. La vittoria sarà mia. Io mi fidavo. Vi ho dato tutto e voi mi avete, mi avete mentito. Voi sapevate. Sin dalla notte della nostra fuga da Reval. Sapevo solo di essere preoccupato. Ma cercai di non pensarci. Mi sforzai. Non eri che un giovane uomo. Solo è il vero. Bisognoso di una guida. Ansioso di fare del bene. Lo sono ancora. Lo sono ancora. Ho. Ho. Ha. Ho. Ho. Arrenditi. Arrenditi. Bassim. Lasciala qui. Andiamo. Non avrei voluto farlo. Ma io devo sapere. Non voglio perderti per colpa di ciò che troverai là dentro. Non devi guardare al passato per sapere chi sei veramente. Chi puoi essere. Tu puoi scegliere, Bassim. Devi fidarti di me. Ci ho provato. Ma avete pensato che fosse meglio controllarmi. Siete uguale ai nostri nemici. Bassim. Di qua. Io... So che cos'è questo. La chiave. Noi. 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 Noi! Lei ci seguirà. No, non può. L'hai vista anche tu. Qui dentro è custodito qualcosa di molto importante per gli occulti, per l'ordine degli antichi, per me. In cosa ci siamo addentrati? Dove ci ha portati il mio cammino? È meglio che tu non sappia chi veniva portato qui e perché. Sto forse sognando. Lo vedi anche tu? Michal? Io sono qui. Di certo questo è un luogo antichissimo, ma non so quale fosse il suo scopo. Io sì. E come? Io... Io non lo so. Michal, tu mi preoccupi. Io non lo so. Michal, guarda qui. Io conosco questo posto. Michal. No! 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 Non può essere. No! 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 Perché mi conosco? E' una parte della tua realtà. Anche io sono parte della tua realtà. Resterò il tuo piano. Passo, passo, passo. Basta! Fatemi uscire da qui! Come? Cosa? Cosa sei tu? Guarda! Guarda tu stesso! Seles, tu non mi hai capito! Seles! Seles, tu non mi hai capito! Questo è... Mostrati! Tu osi fuggire da me ora? Dopo quel che mi hai fatto passare? Dove sei? Il djinn dei miei sogni... ...la figura delle visioni... ...sono la stessa cosa. È questo ciò che ho visto. I ricordi di una vita lontana... ...sono ricordi miei. È per questo che il djinn mi sembra reale. Il mio tormento. La causa di tutti i miei mali. Se è così... ...allora devo affrontarti. No! Perché vedo tutto questo? Questo spazio... Mentre lo percorro, vedo solo... ...ricordi che turbano la mia anima. In questi momenti difficili... ...che ho sentito il djinn più vicino... ...e quella paura incontrollabile... ...mi paralizzava... ...mentre ero indifeso. Non so cosa lo abbia generato... ...ne per quale motivo... ...mi abbia perseguitato... ...ma sto iniziando a ricordare. Sono in una cella fredda. Imploro pietà. Un tempo... ...avrei cercato la vendetta. Ma se voglio liberarmi da questo dolore... ...allora ciò che chiedo è... ...la pace. È tempo che questa storia abbia fine. La cella... ...la mia cella. Ci sono quasi. Non posso fermarmi. Il djinn... ...lo sento. Non ho paura di te. Io ti vedo per quello che sei. Ricordo opprimente... ...una vita passata. Ed è in quella vita che resterai. È finita. No, Basil. Questo è solo l'inizio. Per noi. Per ciò che ci aspetta. La profonda comprensione del mondo che fu... ...e il nostro posto in esso. Per tutta la vita ho lottato con me stesso. Con il mio destino. Ma tu eri con me... ...da sempre. Il lato di me che respingevo. ...un riflesso... ...di ciò che eravamo. E di ciò che torneremo a essere. C'è così tanto che ci aspetta. Un nuovo mondo. Ora te lo mostrerò. Non ti rivedrò mai più. Vero? Resterò da solo. Non sei mai solo. Non sei mai solo. Non sei nessun spazio. Non sei mai. La vedi. Non sei mai. Ma tu non miri... come quanto tempo è passato non 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti